carissimi pace pace del signore buona giornata a tutti quanti voi oggi 17 gennaio grazie a dio per questo nuovo giorno sono le sette del mattino e leggiamo insieme nella parola del signore nell'epistola di paolo e romani al capitolo 3 dal verso 21 al verso 24 dove è scritto che indipendentemente dalla legge è stata manifestata la giustizia di dio della quale danno testimonianza la legge e i profeti vale a dire la giustizia di dio mediante la fede in gesù cristo per tutti coloro che credono infatti non c'è distinzione tutti hanno peccato e sono privi della gloria di dio ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che in cristo gesù si parla di grazia che significa letteralmente dono immeritato e tutti quanti noi sappiamo che quando rifiutiamo un dono ci priviamo di esso e di riflesso offendiamo anche colui che il dono ci porge e più il dono è prezioso e più grande la perdita per chi respinge questo dono è anche più grande l'offesa per colui che ha fatto il dono ora in questi versi ci viene rivelato che dio ha donato addirittura il suo figlio con lo scopo di salvare tutti quelli che credono in lui tornando all'esempio di poc'anzi potremmo dire che non credere significa respingere in fin dei conti disprezzare il dono che dio ci ha fatto e questa sicuramente uno è una grande perdita per noi e due anche un'offesa per colui che ci ha dato il suo onigenito figlio oggi viviamo in un mondo dove molti non vogliono sentir parlare di cristo e quindi del dono di dio come mai qual è l'ostacolo spesso è l'indifferenza che è dovuta al materialismo nel quale oggi viviamo ma probabilmente c'è una ragione più nascosta e cioè che dio è un dio di bontà ma è anche un dio santo e molte persone preferiscono vivere nel peccato e nella corruzione piuttosto che ricercare e realizzare la santità di dio nella propria vita alcuni pensano di poter presentare a dio delle buone azioni con l'idea di poter essere graditi a lui ed essere accettati e considerati giusti e quindi meritevoli della salvezza ma la parola di dio ci dichiara lo abbiamo letto che tutti quanti siamo dei peccatori che non c'è nessun giusto neppure uno sempre capitolo tra i dei romani però al verso 11 e l'unica speranza per il peccatore è quello di ricevere grazia cioè di ricevere il dono di dio vale a dire cristo gesù che ci viene concesso e o meglio che c'è stato concesso duemila anni fa quando egli ha dato la sua vita sulla croce al calvario e possa il signore far sì che in questa mattina se c'è qualcuno che questo dono finora lo ha rifiutato possa decidere di accettarlo nella propria vita per poter ricevere la cosa più preziosa di questo mondo vale a dire la salvezza dell'anima possa far sì che se c'è qualcuno che è titubante e non riesce a trovare lo slancio necessario per afferrarlo nella propria vita e sta magari rimandando da tempo possa stamattina prendere una decisione seria quella cioè di fare un passo definitivo verso il signore per poter ricevere vita eterna perché oggi è il giorno della salvezza il domani non ci appartiene rinunciare oggi a questo dono per qualcuno potrebbe significare rinunciarvi eternamente e quale triste sarebbe la conseguenza l'inferno la condanna eterna l'infamia nello stagno ardente di zolfo e di fuoco e se c'è qualcuno che magari non sta apprezzando nella giusta misura questo dono che forse è afferrato nella propria vita ma che ha cominciato a trascurare possa in questa mattina la parola di dio e questa breve riflessione spingerti a dare maggior valore a cristo nella tua vita per poterlo servire amare onorare tutti i giorni perché non c'è cosa più bella di servire il signore sì perché quando noi serviamo il signore ci sentiamo soddisfatti ci sentiamo appagati quando noi serviamo il signore sentiamo ancora più copiosa la benedizione di dio nella nostra vita non lo serviamo perché questo ci permette di ereditare la vita eterna ma lo serviamo perché abbiamo realizzato la vita eterna perché dio ha preparato delle opere buone affinché noi le pratichiamo e la mia preghiera in questa mattina per ognuno di noi è che la grazia di dio possa sempre di più abbondare nella nostra vita e che questa grazia possa essere conosciuta da altri affinché ogni uomo possa realizzare la vera felicità sia su questa terra sia poi nell'eternità quando ci dovremo presentare davanti a lui è vero dunque tutti siamo peccatori tutti abbiamo bisogno di essere graziati da dio e questa grazia offerta a tutti e duemila anni fa sulla croce c'è stato il più grande sacrificio anzi l'unico sacrificio perfetto accettevole agli occhi di dio accettiamo questo dono nella nostra vita non ce ne pentiremo anzi lo ringrazieremo tutti i giorni sia su questa terra e poi per l'eternità e quando saremo davanti a lui lo loderemo e lo glorificheremo e lo innalzeremo perché degno è l'agnello che è stato immolato per ognuno di noi che la grazia la pace l'amore e la presenza di dio ci accompagnino ancora oggi pace a tutti quanti voi grazie a tutti